L'abbandono dei rifiuti è un atteggiamento irrispettoso ed incurante che ancora troppo spesso l'uomo attua nei confronti del proprio territorio, lasciando tracce di inciviltà, soprattutto su spiagge, luoghi in natura e sentieri collinari e montani. Questo trasmette un mancato attaccamento alla propria terra, ma soprattutto una mancata consapevolezza della ricchezza culturale e storica dei nostri luoghi, che non smettono di essere una meta turistica gettonata, ma qualcosa può cambiare prendendo coscienza del fatto che a migliorare le cose sono i piccoli gesti quotidiani ed accortezze di ognuno di noi. Un territorio bello è un territorio pulito e rispettato. È lo slogan utilizzato per promuovere un'interessante iniziativa pensata da Raffaele Bisogno, referente Plastic Free di Sapri ed accolta con entusiasmo da Fernanda Quaglia, altra referente Plastic Free di Pollica, che con il Forum dei Giovani del Comune si sono attivati per organizzare una giornata interamente dedicata alla rimozione dei rifiuti che drammaticamente sono presenti sul nostro territorio. Velocemente l'iniziativa ha preso piede, vedendo unirsi all'azione anche il Vallo di Diano con i referenti di Sala Consilina e Padula, rispettivamente Angelo Trezza, Luigi Maria Gentile e Francesco Macri. L'evento rivolto a tutti i comuni del Cilento si terrà il 16 maggio e sarà unico per tutti gli enti che accoglieranno il progetto con il fine di trasmettere la collaborazione ed unione di cui il nostro territorio è capace. I comuni che aderiranno saranno liberi di scegliere i luoghi più consoni in cui organizzare la giornata e dovranno coinvolgere le proloco, amministrazioni e forum comunali, compresi i volontari del posto che vorranno fare la loro parte. Grazie. Grazie. Grazie.